Ma è di te che mi preoccupo? Dei tuoi pensieri, dei tuoi... Ma che fai? Voglio vedere bene in faccia mio fratello quando dice delle sciocchezze, mi compensano delle mie. Luisa, ascolta... Non ne ho la minima intenzione. Pisa! Pisa! Che c'è? Si va tutti a Pisa, scendi! No, adesso no! Non ora! Ci andrai subito invece. Amore nato, voglio rimanere con te. Adesso scende! Grazie signor Messi! Ti prego, dal resto fra poco devo andare in fabbrica, vado. Ma quello sta in casa o in galera? Aspetta la fine del processo per decidere. Quanto siete delicati! Aspetta il futuro cognato che protesta. Luisa, ragazzi, ma che cos'è questa idea di Pisa? Io non ho nessuna voglia di andare all'università. Nemmeno io, è una scusa per sbagliarcela. Renato si è messo in testa che anch'io lo giudico male. Se te lo domanda, digli che lo giudico malissimo anch'io. Caraco! È proprio il tipo che si c***a.